...fiori, con la 2, con la 4, 6 pezzo e pepore. Il pepore o non lo so? Non lo so, è giusto a tampone, sono mappissimi. Il pezzo è il palazzo, guarda, è il palazzo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Ma c'è un apporto. E' uno, là, è a conno. Grazie. Grazie. Alla, sei te, vero? Con Ciro? Alla rapaci gli sta sul caso, Ciro. Grazie.